Ciao, vedete questa merda? Salve. Dobbiamo vedere i commenti. Saluta, Thomas. Allora. Tutto fresco, scrive. Allora. Raga, basta scrivere tutti i commenti e non riesco a mettere il like. Ok, merda. Primo ascolto, che bomba. Secondo ascolto, bomba atomica. Terzo ascolto, a cazzo, godi. Perché... Lei serve se apre autoblue per leggere i commenti. Hanno fatto la canzone apposta, dovrebbero chiamarla Shiva, commenti. Shiva. Non è, non è, non è, non è, vabbè, non è così male senza volume. Confermo a Dio. Allora. L'ho fatto sentire il mio canale, in Cina, a farsi mangiare. Ho fatto sentire questa canzone a Conte. Si era segnato e ho tolto la quarantena. Va bene. Ora è un panda, è una panda. Va bene. Vabbè, questi qui sono tutti... Allora, io voglio vedere quelli sgrammatificati. Frec, punto e fenne. Ho fatto sentire questa canzone a mio parrucchiere. Mi ha rasato a zero. Non fa ridere. Guarda questa. Mamma, togli la canzone della classe. Cioè, persone normali. Perché? Posso usare quelle del salotto? Mamma. No, perché sta... Mi dissocio comunque. Grazie, Farai, guarito mio non è paralitico. Ho messo... Mentre... Mentre ascoltavo questa canzone ho incontrato un branco di cinghiali e per farli scappare... E' stato schifo. Si sono suicidati. Mi fai parlare di io, allora. Aiuto, ma che ha messo like ha dei problemi? Secondo me sono i suoi parenti. No, allora Beatrice e Basile, ti spiego. Quelli che hanno messo like, volevano solamente mettere due dislike, capito? Solo che non ci sono riusciti bene. Mentre ascoltavo questa canzone ho incontrato un branco di... Ok, questa. Allora, andiamo giù. E... Tre giorni fa. Raga, i like sono le persone che capolgono. Esatto. Allora, andiamo un po' in giù, vediamo. Io... Ah, questa è questa. Aspetta zitto, zitto. Negro, zitto. No, adesso mi bannano. Devi stare zitto, se non mi muto. Allora, questa è la dimostrazione che il 2020 è un anno di merda. Confermi. Ho messo questa canzone in videolezzo. Aspetta, zitto, se parlo io però parlo non per l'arte, vaffanculo. Allora. Questo video però lo faccio senza tagli, perché è tanto inutile. Ora, ho messo questa canzone in videolezione. La prof ha imparato la funzione di alto F4. Ma è quello che salvo per dire io. No, ma devi stare zitto. Tu puoi solamente ridere. Questo è il tuo scopo dei video. Percentuale del perché ho perso il video. 1% per ascoltare la canzone. 99% per leggere i commenti. No, io aggiungerei un 98% perché l'1% è per farci le reaction. Comunque, che schifo sta versione. È molto più bella quella originale. Confermo un bimbo di... Quanti anni avrà questa qua? Questa canzone è bella quanto i computer presi tuis. Un iscritto. Perfetto. Allora. Pro Hacker 99218. Io. Vado al bagno. Io. Metto su... 500 iscritti faccio un contest di 25 euro. Sì, ovviamente. Ho paura che me la dovrò subire in questo video per tutte le state. 20.000 like. Quanto ci metti a fare 20.000 like su un commento? Oh, aspetta, Ferax. Ascoltando questa canzone mi è venuta voglia di sedermi sulla TV e guardare... Mi è venuta voglia di prendere una pistola, spararmi in testa. Facciamo la reaction però vera e propria, allora. Ovviamente è una canzone che non starte con... Ma farò sentire, no, i tuoi sudditi. Oh, il bello 97.150. 47. Non mi sei lì la messa l'orda. Allora, io voglio capire una cosa. Non capisco il collegamento. Cioè, il collegamento tra le frasi. Cioè, parte da Milano. Non ha senso. Cioè, non ha alcun senso questo video. Fai un video a un muro. E' più divertente perché il muro almeno c'ha qualcosa raffigurato. Questo no, è un'immagine fissa. Anzi no, perché vedi... Si muovono. E con delle parole sputtate a cazzo, cioè... Vabbè. Vediamo. Poi, ovviamente, il logo di Shiva qui è uno e qui è un altro. Perché lui non parla con la gente. Lui è... Cialmutismo selettivo. Quindi lui non parla. Perché qua chi tradisce... Allora, come già ribadito. Visto che già non ha senso questa canzone, non so se devo prenderla più come una cosa che faccia ridere o piangere, perché non ne sono sicuro, però... Vabbè, vediamo qua. Se vedi, lui è un ribelle. Vabbè, sono troppo schifato per continuare una roba del genere comunque. Che dici? Continuiamo questa merda, possiamo chiudere qua. Che ne dici? Beh, se vuoi, possiamo anche fare... Andare a vedere altri video. Altri video suoi, dai. Che cosa guardiamo di suo? Cioè, io spero che non abbia altre canzoni. Spero di Cristo. Cioè, spero agli italiani, allora. Bicarbonato. No, oddio. Vabbè, ma poi... Vediamo bicarbonato, ma di sodio, oppure di qualcos'altro. Diciottesimo su tendenze, io mi sparo in testa. L'ha fatta il 20 aprile. Cioè, lui fa 20 canzoni al mese, praticamente. Sì, sì, è... Oddio. Allora. Ha 8000 dislike, mettiamocene anche noi, perché non so. Allora. Ascolta, ora su Spotify. In una posizione... Fer, cioè, vuole cagare, sta provando a cagare, solo che, vedete, non ci riesce. Oh, guarda questo! No, no, ci devo credere. Quattro giorni fa, una persona, a caso, che metterà mi piace a questo commento, diventerà ricca nei prossimi anni. Sì, puoi parlarne dopo di questa cosa, allora. Vediamo... Guarda la mia condivisione. Andrea Bocelli! E allora, Shiva parte tutte le canzoni con Yahya. Non esiste nient'altro che... Il mio orologio fa rumore e delle lancette, in fuso orario anche lui... Il suo orologio fa rumore e delle lancette, va bene... Mi dice cose diverse, non posso lasciare i miei gioielli ovunque... Questi movimenti, cos'è imperativo? No, ma è imperativo che una persona... Cosa sta ragando sul balcone? Allora, devi stare zitto, allora. Lorenzo Lai, il mio orologio e del rumore dalle lancette. Dante Alighieri, 1298. Il mio orologio fa il rumore e delle lancette. Io, sinceramente, penso che l'acqua sia bagnata. Va bene, ok. Gesù, quattro giorni fa, mai chiuso così velocemente la sezione commenti di... Auto Blue. Mmm... Help me, rich, 60 subscriber. Hey you, yes you. Oh vabbè, questo che è autistico. Dategli una cintura funzionante, vi prego. Il tuo cuore era puro. Moby Carb... Francesco Piacomo... E' una biscola lunghe, se sono arrivato qui dove sono, perché ero un bambino sono troppo diverso da loro. E' troppo diverso, secondo me. C'è chi è i denti? Che cosa, le cari? No, lui così intende diverso, nel senso che è tipo 46 cromosomi Ancora, appunto, il balcone Ma cosa sono le stesse scene, mi scusi Sono schifato, io voglio capire una cosa Voglio sapere nei commenti Quale canzone Volete una reaction Beh, io mi sono rotto il cazzo, quindi chiudo il video Ciao mondo